Accogliamo i bambini che hanno vissuto esperienze troppo difficili dentro alla loro famiglia. I villaggi sono dedicati alla loro crescita. Per noi è importante far sentire il bambino come a casa. Sostieni con me una casa piena d'amore. Il progetto di Fondazione Mediolanum in favore di SOS Villaggi dei Bambini per offrire ai bambini in difficoltà una casa e il calore di una famiglia. Dona al 45599. 45599. Insieme per il loro futuro. Grazie per la visione.